Ciao a bordo ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Juventus Genova 2 a 0, partite che si conclude adesso allo Juventus Stadium abbiamo giocato benissimo oggi, benissimo, due bellissimi gol di Iguain e Dybala e adesso ci qualifichiamo per i quarti di finale dobbiamo cercare di passare questo turno e voglio vedere che la Juve passa il turno con chi prende spero che non prendi il Napoli quindi spero che prenda quel Torino o l'Atalanta allora quindi, stasera, due bellissimi gol di Dybala no, un bellissimo gol di Dybala, due bellissimi, un bellissimo gol di Iguain quindi abbiamo festeggiato benissimo, abbiamo vinto 2 a 0 Vittoria meritata penso, si, meritatissima e adesso quello che c'è è di pensare alla Roma abbiamo fatto vedere al Genova che chi veramente siamo e le abbiamo spaventate ai Genovesi cioè i Genovesi non sapevano cosa fare su quel campo comunque abbiamo fatto una buonissima partita un complimento a tutti fino alla fine possiamo farcela questa Coppa Italia la possiamo vincere l'abbiamo vinto 3 volte la possiamo vincere 4 volte ciao ciao